Buonasera e benvenuti nello spazio informazione di Seila TV, vediamo insieme il riassunto con le notizie più importanti della giornata. Almeno San Bartolomeo, novantenne, cade dal tetto di casa e muore dopo un volo di tre metri. Via Moroni, dopo l'incendio, riapre al traffico la strada, intanto proseguono le indagini. Ponte Secco, domani con le scuole via la seconda rotonda, ma funzionerà? Lasagna, 23 euro in città alta, bergamaschi allibiti, per i cuochi un prezzo normale. Atalanta, la Coppa dell'Europa League, arriva in centro città. I tifosi sognano di conquistarla. E partiamo dalla cronaca. Purtroppo un uomo di 90 anni è morto questa notte a causa di una caduta dal balcone di casa sua ad Almenno San Bartolomeo. È caduto per tre metri ed è finito su una tettoia sottostante. L'uomo viveva solo e da qualche tempo aveva dato segni di confusione mentale. È morto nelle prime ore della giornata, dopo essere stato ricoverato al Papa Giovanni di Bergamo. Tragedia in montagna, un altro morto nella giornata di ieri, si chiamava Luca Capelli, 30 anni di Almenno San Salvatore. È morto cadendo in un canalone in Val Camonica, in zona Corno delle Granate. Si trovava incordata con un amico quando è scivolato ed è precipitato per 100 metri. Tutto è accaduto poco prima di mezzogiorno e a nulla sono serviti i soccorsi giunti sul posto. Luca lascia i genitori, Mario e Ivana, il fratello minore Francesco. La salma si trova alla casa del comiato di Almenno San Bartolomeo. I funerali si svolgeranno a mercoledì 13 settembre alle 10 nella parrocchia di Almenno San Salvatore. Ora parliamo dell'incendio di Via Moroni. C'è il primo indagato, il titolare dell'azienda che avrebbe dovuto iniziare il lavoro, il cantiere, avviato il cantiere proprio la mattina dell'incendio. Nell'inchiesta per incendio colposo a carico di gnoti che riguarda le tre palazzine di Via Moroni c'è un indagato ufficiale. È il titolare della ditta di Brembate che quella mattina avrebbe dovuto iniziare il cantiere per la ristrutturazione di un appartamento al terzo piano. Un atto dovuto in attesa delle perizie fatte dai vigili del fuoco con l'ausilio del nucleo investigativo antincendio. Da stabilire se quella mattina l'indagato e il suo operaio avessero solo scaricato materiale, come dichiarato i vigili urbani, o al contrario fossero già iniziati i lavori. Al centro del sopralluogo un flessibile e due lampade, unici elementi che avrebbero potuto scatenare le fiamme. Scartate altre ipotesi come l'impianto elettrico difettoso o una scintilla provocata dal gas. La buona notizia c'è, Via Moroni è stata riaperta al traffico, alcuni residenti inoltre sono tornati nelle proprie abitazioni dichiarate agibili. Mentre continua la raccolta di fondi, sono 43 invece gli sfollati che resteranno fino al 30 settembre ospiti al Central Hostel di Bergamo, a spese del comune. Incendio questa mattina alle 9.30 a Villongo in via Roma. A bruciare è stato il frigorifero di un appartamento della palazzina sopra gli uffici postali. Il fumo e le fiamme si sono propagate anche nelle abitazioni limitrofe, tanto che è stato fatto evacuare l'intero edificio. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita, le fiamme sono state spente intorno alle 10.30. Gli uffici postali hanno riaperto, ma l'appartamento dal quale è scoppiato l'incendio ed è stato dichiarato inagibile. Domani l'apertura dell'anno scolastico, sicuramente più traffico in città e in provincia. Uno degli snodi più importanti e più difficoltosi della nostra Interland è sicuramente quello di Ponte Secco. Dovrebbe cambiare qualcosa proprio nelle prossime ore, i lavori sono stati eseguiti almeno parzialmente. Ci colleghiamo con Federico Bifignandi in diretta, eccolo qua, proprio sul luogo del fatto o del misfatto. A giudicare dalle prime immagini vedo dei New Jersey provvisori. Diciamo che si apre perché domani è il primo giorno, ho sbaglio Federico. Sì, ciao Luca e buonasera a tutti i nostri telespettatori. Alle spalle, come hai detto tu, il famigerato nodo di Ponte Secco dove da questa sera, attorno alle 21, ti do un'anticipazione, dovrebbe aprire la seconda rotatoria, quella che fa la coppia con la prima già inaugurata diverse settimane fa all'altezza di Valtese. Si aprirà questa sera, quindi domani per il primo giorno di scuola la rotatoria sarà funzionante a tutti gli effetti. Dovrebbe sciogliere il nodo famigerato di Ponte Secco da e per la Val Brembana. A occhio e croce, come dicevi tu, si apre proprio perché l'assessore Comunale dei Lavori Pubblici Brembilla aveva detto se non apriamo entro l'inizio delle scuole ammazzo qualcuno. Ovviamente fuori dai microfoni, detto con simpatia, ma per dire che voleva aprire a tutti i costi. In parentesi, a mio avviso insomma questi tanti cantieri per la viabilità determineranno un po' forse anche le elezioni del giugno 2024 per la nuova giunta. Come aprirà la nuova rotatoria? Con dei New Jersey provvisori che disegneranno una vera e propria rotatoria proprio alle mie spalle, si spegneranno i semafori e si prenderà forma. Insomma ecco il nuovo nodo, speriamo non più di Ponte Secco. Però arrivando qui vi farò poi vedere le immagini nel servizio che manderemo. Arrivando qui la situazione è molto vicino al drammatico perché dallo stadio fino al semaforo della Maresana è una coda unica e anche provenendo da Via Ruggeri da Stabello e quindi dal centro città insomma la situazione non è migliore. Sono qua da un po' e almeno tre o quattro persone che sono passate in auto hanno gridato agli operai che sono al lavoro ma aprite o no e soprattutto quando basta lavori. Proprio una protesta volante che fa un po' sorridere ma la dice lunga sullo stato d'animo. Comunque la notizia è che stasera si apre salvo imprevisti domani per l'inizio della scuola la viabilità dovrebbe migliorare ma se sei d'accordo lancerei un recap che ho preparato con immagini registrate poco fa per capire meglio appunto come funzionerà il tutto. Ecco ringraziando Federico Bifignandi per la puntualità del suo lavoro diciamo anche che nessuno può smaterializzare migliaia e migliaia di macchine è un nodo che ha fatto impazzire e probabilmente lo farà ancora per molti anni il centro del discorso è la quantità infinita di macchine l'abbiamo visto con paladina si apre una strada ma l'imbuto poi arriva. Agevoliamo il servizio. Salvo imprevisti dell'ultimo minuto aprirà domani mattina all'alba la seconda rotatoria voluta dal comune di Bergamo per sciogliere il nodo di ponte secco. La prima la più grande in territorio di Valtessa è già attiva da diverse settimane mentre la seconda dal diametro di 36 metri inaugura domani e sostituisce di fatto il semaforo all'incrocio con via maresana proprio al confine tra Bergamo e Ponteranica. Un intervento che l'assessore ai lavori pubblici Marco Brembilla ha detto sin da subito che risolverà il traffico al 70 per cento ma per i bergamaschi l'idea sembra essere già bocciata sia sulla carta che da primi test di queste settimane con le code che non si sarebbero attenuate nonostante il periodo estivo. Bisognerà tuttavia testare le due rotatorie effettivamente percorribili e il traffico da scuole per esprimere un giudizio e già domani sarà una prova del 9 con pochi appelli. Intanto se la fine dei lavori verrà confermata sarà una prima buona notizia e non scontata. Il nuovo sistema gestirà anche i semafori dei passaggi pedonali spostati a pochi metri dalle rotonde i quali diventano a chiamata mentre il ponte con il display di segnalazione tradizionalmente all'incrocio con Ponteranica viene trasferito all'ingresso dell'asse lungo via Ruggeri da Stabello. E parliamo ora del nuovo anno scolastico con l'assessore Poli che dà il saluto agli alunni tra l'altro l'ultimo saluto come assessore uscente perché l'anno prossimo ci saranno le elezioni. L'aspettativa parto da questa è che tutti gli investimenti che negli ultimi mesi sono stati dati dal ministero direttamente alle scuole o dai comuni e dalle province a migliorare gli edifici possano cominciare a dar frutto quotidianamente ogni giorno accogliendo al meglio i ragazzi e le ragazze e tutti i lavoratori della scuola nelle diverse sedi scolastiche. Primo auspicio. E invece un grandissimo in bocca al lupo ai ragazzi e alle ragazze e ai bambini e alle bambine. In bocca al lupo non perché tutto vada bene benissimo ma perché quest'anno si apre un percorso il più possibile interessante e coinvolgente. Quello che le scuole stanno cercando di fare uscendo da un periodo che è anche un periodo di grande fatica. Lasciamo perdere gli aspetti dolorosi o di riorganizzazione legati alla pandemia. È fuori di dubbio che tutte le persone si stanno portando dietro una grande fatica. Nel mondo della scuola la sento particolarmente. Ecco io spero che quest'anno per tutti possa essere come un grande respiro. Prendiamo aria e ripartiamo con un'idea di normalità e di rapporti più sereni che non può che giovare a tutti. Bambini, famiglie e lavoratori della scuola. Sì sono dieci anni potrebbe essere il mio ultimo anno. Io sono molto soddisfatta del tipo di relazioni che tra comune e scuola si sono instaurati in questi anni. C'è una facilità di rapporti, una fluidità di linguaggi che è molto migliorata rispetto a quando sono arrivata nel 2014. E' un alto punto focale della viabilità bergamasca della città e quella del trasporto urbano. ATV si dice pronta per la prima campanella delle scuole e anche per l'invasione dei turisti. Domani suona la prima campanella scolastica in provincia che segna l'inizio della nuova stagione un po' per tutti. Anche per ATV che con il suo trasporto pubblico locale contribuisce a regolare notevolmente il traffico cittadino e a servire studenti, lavoratori e comuni cittadini. Abbiamo l'obiettivo di raggiungere una percentuale maggiore di abbonati rispetto agli anni scorsi proprio perché a seguito degli anni del covid questo tipo di utenza è calata. I numeri ufficiali sugli abbonamenti ancora non sono stati snocciolati e si attende l'effettiva ripresa delle scuole ma intanto i primi passi sembrano essere positivi. Abbiamo una ripresa del più 8% rispetto all'anno scorso di abbonati ma ancora in calo rispetto il 2019 quindi abbiamo un meno 15% rispetto al 2019. Bergamo tuttavia si sta modificando andando verso una dimensione sempre più turistica. Ecco perché il servizio non può essere pensato solo per i nove mesi scolastici ma anche in funzione dei flussi di visitatori. I servizi turistici che maggiormente vengono utilizzati sono quelli che collegano l'aeroporto col centro città e città alta così come le due funicolari. come è stato fatto nel periodo estivo comunque avremo un occhio di riguardo anche per il periodo invernale. A questo proposito la funicolare resta un mezzo sotto osservazione. Tante le code che si formano in Viale Vittorio Emanuele secondo qualcuno anche per la chiusura del bar che aiutava come biglietteria sebbene i ticket siano sempre rimasti in vendita nella stazione bassa. Notizie sulla riapertura di quel locale? Sicuramente non sarà settembre molto probabilmente nell'autunno. La direttrice ha parlato anche della sicurezza degli autisti il cui fenomeno era salito alla ribalta qualche mese fa per via di qualche episodio di troppo. Tutto sotto controllo dice lei aggiungendo che ogni autobus è dotato di videocamere di sorveglianza che sono sempre assai utili alle forze dell'ordine per verificare episodi che avvengono in tutta la città. A questo proposito sul tema baby gang in città ATB non è stata coinvolta nonostante il comune avesse detto di averlo fatto al tavolo per la sicurezza. Poco male spiegano da via gleno perché il ruolo dell'azienda proprio attraverso le videocamere è comunque di rilievo. In tempi di scuole che iniziano quale voto ambisce ATB per giugno? Almeno il sette e mezzo. E torniamo su una delle due polemiche cittadine, quella della piramide in piazza vecchia. È Vittorio Gasgarbi che boccia clamorosamente la piramide verde installata dai maestri del paesaggio. La critica era arrivata a fine settimana in via personale con il sindaco Giorgio Gori che aveva risposto transciante, non l'ha nemmeno vista. Nel pomeriggio di oggi è arrivata la nota dal sottosegretario di Stato alla cultura, oltre che critico d'arte. Sono in totale disaccorto con il sindaco di Bergamo che non è il padrone della città, né alta né bassa. La cui condizione di capitale della cultura e la sua tutela monumentale sono determinazioni e responsabilità del Ministero della Cultura. Aggiunge Gasgarbi, do il mio sostegno alla soprintendenza, ma allo stesso tempo indicazione stessa perché il prossimo anno non si astenga su proposte arbitrarie, benché temporanee, creando ambigue interpretazioni di silenzio assenso, ma manifesti il proprio digniego a installazioni velleitarie e ideologiche. Conclude il sottosegretario Sgarbi. Bergamo alta, tutelata dall'UNESCO, oltre che dal Ministero, non è un laboratorio di sperimentazioni sulla pelle dei monumenti e contro una fontana storica. Con quella piramide la città appare non alta, ma altra, e questo non serve a Bergamo. Altra polemica, ironica ma non troppo, si parla di lasagne, lasagne piatto buonissimo che in città alta apparivano un po' troppo care in un locale della Bergamasca di Bergamo alta, ma un po' in tutti i locali c'è stato un aumento generalizzato dei prezzi. Ci sono anche dei perché, e lo spieghiamo in questo servizio di Sharon Bordogne. Tra le domande amletiche che si arrovellano nella mente dei bergamaschi, la questione giusto prezzo della tipica lasagna aerobica occupa non a caso la punta della piramide. In città alta, sulla via della Corsarola, il ristorante non stellato Bernabò propone un prezzo di 23,46 euro, delle vecchie mila lire, per un piatto fatto dalla mamma Antonietta, che sui social scherzano essere la zia segreta di Canavacciuolo con residenza alle Maldive. Facendo due calcoli, al costo di una porzione di lasagne al ristorante di città alta, se ne potrebbero acquistare sei al supermercato, o un chilo in una buona gastronomia di città alta, ricevendo anche il resto. Il ristorante si difende citando ingredienti di primissima scelta e tutti fatti in casa come giustificazione del prezzo. E se i cittadini gridano ai rincari, Ascom e i ristoratori prendono le difese del Bernabò. Come mai non vediamo tutta questa polemica per un maglioncino da 400 euro o delle scarpe, delle semplici sneaker da 600 euro? Io ritengo che siano più fuori luogo quelle. I prezzi dei ristoranti hanno dei costi già alti di base. Dipende il collega cosa ha messo come ingredienti, dipende i costi dell'azienda, il locale, che tipologia di servizio va ad offrire. Poi sarà il mercato a premiarlo o a penalizzarlo. Quando uno accede in un ristorante o un bar, non compra un prodotto, ma compra un servizio. Altrimenti potrebbe paragonare quel prodotto a un prodotto che compra al supermercato, ma non è la stessa cosa. Termo restando che poi uno è libero di pensare se il caso specifico delle 23 euro di una lasagna siano troppo alti o, a seconda del ristorante, siano anche bassi. Esistono ristoranti segnalati nelle guide anche nella nostra provincia dove i primi piatti costano addirittura spesso un terzo in più di questo prezzo. Insomma, il prezzo è esposto. Sta al cliente, che oltre al prezzo della lasagna si troverà a pagare anche coperto e bevande per un minimo di 6-7 euro in più sul costo della pietanza scegliere o meno quel ristorante. Anche se, a volerla dire proprio tutta, questa mattina il cartello che riportava il prezzo di 23 euro per le lasagne è misteriosamente sparito dal Bernabò, mentre ne è comparso un altro nel ristorante di fronte che ha deciso di cavalcare l'onda lasagne offrendole ai suoi clienti al prezzo ben più modico di 10 euro. Andiamo ora ad argomenti forse più seri. La crisi della sanità perenne ci mancava anche il Ministero in ritardo sull'assegnazione delle specializzazioni. Non c'è pace nel settore della sanità. Se da mesi si sottolinea come la carenza strutturale di medici parta dalla riorganizzazione anche della formazione e dell'accesso alle specializzazioni, ecco che arriva un altro ostacolo. Il ritardo nella pubblicazione dei posti disponibili in ciascuna scuola di specializzazione in medicina da parte del Ministero dell'Università e Ricerca si è trasformato in un vero e proprio slittamento della data in cui i candidati potranno esprimere le loro preferenze in merito alle tipologie e alle sedi da frequentare. Gli specializzanti avrebbero dovuto scegliere dove iscriversi a partire dall'8 e fino al 18 settembre. Ora tutto è rimandato a inizio ottobre, con la conferma però di entrata in servizio al primo novembre. Sulle barricate le associazioni di categoria che puntano il ladito contro l'inefficienza del Ministero. Ci saranno conseguenze gravi per un'intera generazione di giovani medici, si legge in una nota congiunta. Questi ritardi riducono anche la possibilità di procedere con lo scorrimento di graduatoria, aumentando quindi il rischio di perdere borse di specializzazione, fondamentali per la tenuta futura del servizio sanitario, concludono. Nel 2022 il tasso di posti persi è arrivato al 15%. Se si considera che ciascuna borsa si fonda su finanziamenti oltre i 110.000 euro, è chiaro come ogni posto non assegnato sia una perdita per la collettività. Senza contare dal punto di vista umano che dalla pubblicazione delle graduatorie prevista per il 16 ottobre, gli specializzanti avranno meno di due settimane per organizzare i trasferimenti nelle città di assegnazione, praticamente la loro vita per i prossimi 4-5 anni. Ci fermiamo per qualche consiglio per gli acquisti, ci ritroveremo con notizie sportive e una bellissima mostra a Pagazzano. Ben ritrovati con le notizie di Seila TV News. Vi do un consiglio per un brevissimo viaggio verso Pagazzano, la bassa della Bergamasca, per visitare un magnifico castello e una bellissima mostra. Ci sono due buoni motivi per recarsi al castello di Pagazzano. Il primo è godersi una mostra di grande impatto emotivo, una vera immersione nel mondo dell'arte figurativa e della scultura. Per un comune di 2.100 abitanti è una soddisfazione poter presentare durante Bergamo e Brescia Capitale della Cultura una mostra di questo livello, all'interno di questo magnifico maniero visconteo e che raffigura sostanzialmente e valorizza gli scultori della provincia di Bergamo e provincia di Brescia. Il secondo è conoscere il luogo ed il castello Visconteo, un tesoro della pianura edificato nel 1300 che merita l'attenzione dovuta alla storia. Fino al 15 ottobre, occhi e sentimento dedicati a Dopo Manzù, dialogo tra sei scultori ed un maestro. Scultori che traggono origine dalle nostre terre, che sono usciti, che hanno portato la nostra cultura e la loro capacità artistica e di riflessione all'estero oltre che anche nel resto d'Italia e poi si ritrovano qui, in questo luogo che è materico, che ha una forte valenza architettonica in modo tale che queste sculture possano dialogare tra di loro e dialoghene anche con il castello. Sono presenti Ugo Riva, Laassenbergs, Rivadossi, Battarola, Tironi e Severino. Il dimenticato scultore bergamasco nell'anno dedicato alla cultura vive grazie ad un'intuizione di Ugo Riva che con Sergio Battarola ha scelto altri quattro scultori per mettere in scena una mostra senza finzioni e dialoghi inventati tra le consuete e incomprensibili didascalie. La scultura prevale in ogni sua forma e con diversi materiali nella sua esplicita, semplice complessità. Estetica ed etica miscelati con il talento di chi sa aspettare il momento utile e ideale per dire qualcosa. Ugo Riva, scultore dell'anima, sa anche esaltare il silenzio coltivato in tanti anni di studio, ricerca e sofferente ispirazione. Votiamo pagina, parliamo di sport e di Atalanta. La Coppa dell'Europa League è arrivata in centro a Bergamo. Questa mattina una delle tre versioni originali dello storico trofeo è stata esposta al flagship store di Sky di Diattiraboschi a Bergamo dove resterà in esposizione fino a martedì sera quando farà rientro nella sede dell'UEFA a Nyon in Svizzera. Base di marmo, struttura in argento, pesa 15 kg ed è il trofeo UEFA più pesante. La Coppa nasce nel laboratorio Bertone di Milano che tra le altre cose produce anche la Coppa del Mondo. Naturalmente i tifosi atalantini sono accorsi ad ammirarla, sperando, chissà, di poterla portare a Bergamo per averla vinta sul campo al termine dell'edizione di quest'anno che terminerà a Dublino con la finale del 22 maggio. Incrociamo veramente le dita. Parliamo di Atalanta Under-23, il primo storico punto ufficiale nel campionato di Serie C. Girone A, la squadra allenata da Modesto ha fermato sullo 0-0 in trasferta. Il Trento, squadra quotata per il salto di categoria. Ottima prestazione dei nerazzurri che soprattutto nel primo tempo hanno rischiato di vincere anche la partita. Nella ripresa invece ha regnato la stanchezza e la paura di perdere, ma intanto la classifica si è mossa con il primo punto. Atalanta torna in campo venerdì 15 settembre alle 20.45 sfidando in casa la Gianna Erminio. Curiosità, in attesa che a Caravaggio lo stadio sia pronto, e i nerazzurri giocano le partite interne a Gorgonzola, proprio in casa del Gianna. Quindi giocherà per due volte nelle mura amiche. Parliamo ora dell'Albino Leffe. Purtroppo l'esordio in casa è una sconfitta. La prima sconfitta di questo campionato cede 2-1 contro la Triestina. Vantaggio blu celeste al diciottesimo della ripresa con Gosu, ma la gioia dura poco. Due minuti più tardi l'Escano pareggia e alla mezz'ora raddoppia, fissando il definitivo 2-1. Sentiamo le parole di Mr. Lopez nel post partita. La Triestina è stata in balia nostra fino al gol. Poi fatto il gol abbiamo preso uno subito dopo tre minuti, che per me è dell'assurdo, perché eravamo addirittura in superiore da numerica. Poi dobbiamo imparare che quando non si può vincere non si deve perdere. Ma queste sono tutte cose che cerchiamo di imparare, che stiamo imparando. Devo dire che abbiamo giocato noi, abbiamo creato tanto, tantissimo. Loro alla prima occasione hanno fatto gol e alla seconda hanno fatto gol. Per cui giocare contro la Triestina, che secondo me è una seconda forza del campionato, e la tratti a amichilirla, penso che questo sia un vanto per i nostri ragazzi. Poi dopo c'è da lavorare per il fatto che non abbiamo fatto gol, non abbiamo fatto i gol per le occasioni create, e più che altro per il continuo mettere palla dentro l'area loro, soprattutto il primo tempo. E lì lavoriamo, cercheremo di lavorare. Io sono, lasciate passare il tema, arrabbiato perché oggi abbiamo perso. Oggi abbiamo giocato solo noi. Certo, se tu puoi dare l'escano, una palla dentro l'area, l'escano ti fa gol. Però io sono molto contento di come la squadra sta in campo, di come affronta le partite, dell'equilibrio che mantiene. Perché anche sui due gol che abbiamo preso noi eravamo a superiore di Danomella. Per cui c'è un errore. Grande mister, quando non si può vincere, non si deve perdere. Questa ce la segniamo. Come ci segniamo il tempo delle prossime ore con Trebi Meteo. Ben ritrovati ai nostri telespettatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. L'anticiclone africano nella giornata di martedì continua a garantire condizioni di bel tempo in Lombardia da segnalare solo in serata l'arrivo di qualche rovescio tra Alpi e Prealpi. Caldo anomalo con temperature massime fino ai 32-33 gradi, specie in pianura. In dettaglio sulla provincia di Bergamo, contesto di stabilità per gran parte della giornata, eccetto in serata qualche rovescio in arrivo, come dicevo, sui monti. Massime comprese tra i 28 e i 32 gradi. Per quanto riguarda poi la giornata di mercoledì, una perturbazione transiterà sulla provincia apportando dell'instabilità con fenomeni anche di forte intensità, temperature massime in conseguente diminuzione con clima comunque che sarà mite, valori compresi tra i 24 e i 26 gradi. Poi per quanto riguarda la tendenza attesa per le prossime giornate e attesa ancora un po' di instabilità, ma come sempre questa è una tendenza per cui per sapere tutti i dettagli vi invito a restare aggiornati sul sito e l'app di Trebimetea. Ombrello a portata di mano, le vostre segnalazioni a redazione chiocciola.seilatv.tv questa sera il calcio con Calcio e Pepe e Luciano Piazza Lunga. Una buona serata a tutti voi. a presto! Grazie a tutti.